L'Eco in Serie B dopo 50 anni. Dopo Cagliari-Bari, ancora una squadra pugliese è stata beffata nei play-off. Una stagione da sogno per il Leco che batte il Foggia sia all'andata che al ritorno. Dopo lo svantaggio dei Lombardi, uno scatenato franco-lepore riporta in sesto la partita con una doppietta. Sarà una Serie B infuocata nel 2024? Intanto è festa grande per gli umili di Luciano Foschi, dove figura anche il figlio di Paolo, Cristian Maldini.